Al Salone del Mobile di Milano, Ego Italiano, azienda lucana specializzata nell'ideazione, produzione e vendita di imbottiti e complementi d'arredo, ha proposto quest'anno il concept Reality is Unreal. In controtendenza con la Digital Escape, lo stand, il cui progetto di interior design è stato curato dal team interno Diego Italiano, in collaborazione con Isabella Di Santo, ha portato con sé un'interpretazione immersa nella realtà che prende forma nelle nuove proposte di arredo. Un approccio esperienziale che si sposa con la creatività, la tecnologia, l'innovazione, ma anche il desiderio di rispettare e celebrare nel quotidiano la natura e l'ambiente che ci circonda, rimarcando al contempo un impegno concreto in ottica di responsabilità sociale d'impresa, dando nuova vita agli scarti, unendo stile, funzionalità e design sostenibile, esposando in pieno i principi dell'economia circolare. Ego Italiano è un'azienda che si è sempre impegnata nel tema dell'innovazione e sostenibilità. Quest'anno ufficialmente lanciamo il progetto di noleggio Flip. Il consumatore potrà noleggiare il prodotto Ego Italiano per una durata di 40 mesi, al termine del quale il consumatore potrà scegliere di riscattare, cambiare il prodotto con uno nuovo o restituirlo. In caso di restituzione l'azienda si impegna a recuperare tutti i materiali e componenti per dar vita ad un nuovo prodotto rigenerato che sarà poi reinserito sul mercato attraverso un canale dedicato. Diventa un percorso esperienziale, frutto di ricerca negli anni, ma anche di voglia di trovare sempre qualcosa di stimolante e di valorizzare anche i dettagli. Abbiamo interpretato delle lamine metalliche per rivestire cuff, cuscini e anche delle sedute, fino alla ricerca di velluti, velluti importanti, pregiati italiani. Quest'anno, grazie alla collaborazione con l'architetto Giulio Manzoni, ci siamo ispirati alle nuvole e quindi un omaggio alla ninfa delle nubi, Nefele, abbiamo dato il nome a questo divano che ha proprio una forma così rotonda, sinuosa, appunto come la nuvola, che conferisce comfort e bellezza e morbidezza. L'altra collaborazione è con la poltroncina Coconut, firmata da Marta Mantovani, è una stilista e creativa che ha voluto decorare tutta la scocca della poltrona con applicazioni delle nostre pelli e quindi c'è anche un discorso di economia circolare, visto che dagli scarti della pelle si può ancora riutilizzare e creare ed è un oggetto così meraviglioso come la poltrona e pezzo unico soprattutto. Un concept a cui teniamo molto perché in un momento in cui si parla di realtà virtuale, fuga dalla realtà, noi celebriamo invece la realtà che può essere incredibile e quindi un'immersione all'interno della natura dei mondi che viviamo. Quindi lo stand richiama tutto questo nei colori, nelle ambientazioni, nei paesaggi che vogliamo rievocare, paesaggi immersivi e assolutamente reali, quindi assolutamente non modificati o resi diversi da quello che sono realmente. Quest'anno per noi è stato un anno meraviglioso, ritrovare i nostri clienti che avevamo perso, specialmente il mercato asiatico dove si era perso completamente, quest'anno abbiamo visto ritornare, quindi è un segno di speranza per gli anni prossimi di questi mercati dove è un futuro grandioso per noi. Grazie a tutti.